Tre giorni con lo sbarazzo, sono oltre 40 i negozi in città Novara che scendono praticamente in strada dove mettono in mostra i loro prodotti, prodotti che sono super scontati. Un'iniziativa che piace si è arrivati alla terza edizione. Abbiamo ascoltato alcuni degli stessi commercianti che ci raccontano come dia una sensazione di città di vacanza e anche il periodo secondo loro è quello giusto. Sul giornale d'azione che trovate in Edicola a partire da questo venerdì 26 luglio trovate tutte le interviste ai commercianti e potete anche seguirci su www.sdnews.it dove scaricare i nostri giornali in formato digitale. Un saluto da Marco Cito. Sì, sì, piace molto i clienti, è una vendita più libera, è anche un'occasione per acquistare nuovi clienti, per far entrare dentro e comunque farsi conoscere. Abbiamo pensato di scegliere ancora la data di luglio che l'anno scorso aveva dato esiti positivi perché pensiamo che già i saldi non sono in un momento ancora splendente per cui partecipare allo sbarazzo a settembre sarebbe stato un rischio che la clientela non avesse più necessità di acquistare merce per cui c'era il rischio che non avesse avuto un esito positivo. Quindi abbiamo confermato la data di luglio e piace perché il negozio fuori è piaciuto sia a maggio che a giugno l'abbiamo fatto, è piaciuta la clientela perché diceva che arriva alla città, faceva un po' vacanza e quindi abbiamo continuato e abbiamo fatto la terza edizione allo sbarazzo per concludere questa edizione di negozio fuori di questa stagione estiva e quindi secondo me è un'iniziativa che piace un'iniziativa che non costa dei corsi anche limitati da parte dei commercianti per cui è anche facile da poter attuare. Vedo che c'è tanta gente, più negozi con le esposizioni all'esterno quindi è una terza edizione insomma, penso che sia sempre la migliore. La vetrina fuori, la merce da vedere, da toccare senza entrare in negozio però comunque da provare all'interno, comunque piace molto. Il periodo trovi che sia giusto? Il periodo guarda, penso sia diciamo anche se è in mezzo al periodo dei salvi comunque l'acquisto di un prodotto estivo lo puoi sfruttare tranquillamente anche per i prossimi mesi. È il momento giusto, esatto, esatto.